Ciao Tre, benvenuto a Sansevero. Hai avuto modo di conoscere i tuoi nuovi compagni, le tue prime impressioni? Ciao Tre, benvenuto a Sansevero. Come ti senti nel primo giorno di Sansevero? Mi sento molto bene, ho sentito subito che questa è una città che vive di palacanestro, in Europa è una cosa strana, allo stesso tempo molto eccitante. Ho sentito la vicinanza della gente, la società mi ha colpito come una vera famiglia, sono molto molto bene in cima alla famiglia. Cosa ti aspetti dalla stagione che andrete ad affrontare? Cosa ti aspetti per la prossima season? Mi aspetto che la città e i tifosi si rendano orgogliosi di quello che sarà la nostra squadra, vogliamo giocare duro, vogliamo dare tutto in modo che la gente si identifichi con noi e così possiamo raggiungere buoni risultati. Vuoi salutare i tuoi tifosi, i tuoi nuovi tifosi? Sì, per sicuro. Ciao a tutti, sono molto eccitato e contento di essere qui con voi e sono sicuro che faremo una grande stagione e vogliamo rendervi orgogliosi. Vi saluto tutti e vi aspetto a tutti. Grazie a tutti e vi aspetto a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.